Ok, allora, ti racconto il film? Allora, Mohamed è il pescatore, la storia di Mohamed, un ragazzo mauritano che alcuni anni fa viene in Italia utilizzando i gommoni utilizzati da moltissimi altri migranti. Il suo gommone ha un problema poco dopo la partenza e affonda. Muoiono tutti gli occupanti di questo gommone, 47 persone, ma a Mohamed riesce a resistere per una settimana fino a che un pescatore di Mazzara del Vallo, Vito, lo salva. A quel punto vive in Italia alcuni mesi, poi andrà in Europa dove troverà un lavoro, ma decide di tornare in Sicilia per riabbracciare Vito e per ringraziarlo del gesto di amore che ha fatto nei suoi confronti per salvarlo.